Rocca Piperozzi qui dobbiamo continuare? nella piazza è la piazza principale di Rocca Piperozzi sono di fuori grotta Napoli sono di fuori grotta Napoli noi no ok arrivederci chi dice che in un bacio c'è sempre un non so che c'è chi crede che una stella a metà d'agosto quando cade avere i sogni ti mette a posto e che il primo grande amore scordare non si può noi no, noi, no, noi, noi, noi no 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 beato chi ci crede noi no non ci crediamo e noi baciando ci pensiamo e allora ecco qua Giuseppe Gallina per tutti voleva o non Giuseppe Gallina? voleva la Gallina salutamento non mi permettere mai allora Giuseppe questa è la strada di Porta Venafro? ci porta abbiamo attraversato la L'Ecupa ci porta a Rocca Piperozzi 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 che poco anzi la volta mi diceva che ci sarà la birra che ci aspetta ora vai Giuseppe c'è sfumeggianti questa radone ce la può fare mezzo in mezzo eh erano poi in un'occasione per salutare il presidente del Velo Club si erano potuti essere presenti con il Bonacci lui è San Antonio noi abbiamo tracciato i vari concorsi per la Pannonea ci siamo compromettati anche su questo ma tutti presenti oggi Peppi si è presino grazie si è prepaiano è stato l'olore è stata la festa dei Peppi oggi Peppe d'Oltreve la festa dei Peppa Ferdinando Caliente Antonio Marcello Pietro della Versa Pietro della Versa Pietro della Versa Agostino Martini Peppe Leva i Peppi aiuto i Peppi è una pepponata una pepponata buona vedo l'altro grazie anche a te Giuseppe grazie a voi noi no 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 questo è un barrile cazzo guardate 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 siamo qui a Rocca pipipipipi rossi arriva con i rossi si è in saccovere però noi non ci dispiace avviciniamo la carnetica si può è un rivolto Rocca Pipirozzi Rocca Pipirozzi Rocca Pipirozzi Rocca Pipirozzi magnifico paesaggio da questo paese paese scordato scordato a Dio è quasi 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 a parte gli scherzi comunque l'autostrada del sole si le paleoliche zona Capriate al Volturno Ciorlano si monti del Matese quindi noi dovremmo arrivare lì sopra monti del Matese faccio ragazzi praticamente quelle che dovremmo mettetevi l'animo un bacio e quindi quello è il problema ah stai va bene va bene andiamo a scendere ok andiamo ciao eccezionale qua siamo tra tra il confine di fine Isernia inizio Caserta bellissimo peffè il fiume che scorre lento con l'amico Leopoldo non si piglia la via ci piglia du caffè infatti l'amico Leopoldo è Leopoldo e Pietro ciao 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 ecco il punto ristoro per tutti noi che ci meritiamo questa sosta ci vuole questa sosta ci vuole questa sosta ci vuole questa sosta ci vuole decisamente buongiorno finalmente il pasto parti qua si mangia qua si mangia qua si mangia è una cosa interessantissima e allora dopo il ristoro ci mettiamo in cammino per il Matese ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo adesso vi porto io al 40-45 vai via ci vediamo ci vediamo no ci vediamo a a ciao a ciao a ciao a commento la bolla caliamo la pasta grazie Giuseppe grazie per fin adesso magnifico percorso grazie alla tua organizzazione vincente sono uno vincente Io lo posso dire no, io lo seguo con tanta franchissima, grazie a te. Ah ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho beccato. Leggiti così, hanno detto da fare un beatstop per affrontare 200 minuti, è tutto ok. In flagranza di reale. E' brutto. E' brutto, vabbè, buonasera. Volete camminare? Vabbè, buonasera. E' bello. Questo è per l'acido lattico e questo è per i carpe dracchi. Poi c'è anche un po' di proteine, di pochettare, questo uso è il formaggio. E' completo, Raffaele, stanno a poca. Buon appetito. E allora questo viale alberato, questo viale alberato, una cosa magnifica. un'altra cosa eccezionale, bellissimo, questo viale, questo viale alberato, con Peppe Tortorelli, il Batman Fu, con Giuseppe, Baiano, Leopoldo e Batman, che si è fatta una Batmarenza. Una Batmarenza. Una Batmarenza. E' eccezionale questo viale. E' eccezionale questo viale. Bene e bravo. Eccezionale. Vale la pena riprendere. Grazie a tutti. Gli e con i vostri mangiati con la vacca ma stegate le visite da sega la e si vanno a 179 a 159 devi parlare per sé che hai già aspettato non aspettato non cambia poco non faccio niente andiamo? andiamo alla L viene la M allora so se sta fratella qui alle fontane dell'acqua l'ete l'acqua eccezionale frizzante spero spero acqua fresca acqua fuori acqua fuori campagna ottimo Pietro grazie per il suggerimento di questa fontana e tu puoi pensare con lui si si grazie ho detto una carnetta in acciaio ci tracciamo con si 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 aspettiamo il resto dei dei randolleri i randollati i randollati stamattina siamo i randellati stiamo randellati eccole ma sai prese questo è il lavaggio del bucato il nostro amico come si sceglie in franza in franza grande raffaele grande grande di franza facciamo il tuo saluto a casa bel diretta la saluto a casa è finita a casa si immagina non c'è una marina che le mancini che ho fatto bello ho fatto bello ho fatto bello Allora sono le ore 13 Aggiornamenti qui da Fratella vicino all'azienda dove imbottigliano l'acqua lete con Giuseppe Baiano Che dopo il rifornimento ha acquisito altre energie con Giuseppe Gallina Antonio Marcello Quindi adesso ci aspetta la salita per Letino passeremo per la Cipresseta Forse non ci fermeremo Forse meglio non fermarci Dipende se qualcuno c'è stato Per fare una visita Ma comunque sembra che ci... Ma io penso che andava giù e vinto lui Le cascate? Grazie 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 Grazie